Tutto il collegio è solo su RaiPlay! Scarica l'app! In piedi signorina Angius! Guardi che sui fiorellini la stanno aspettando! Oh no! Passa, passa, passa! Ah sì, beh, mi sento le balle! E ti sogno tutte le nattiche Buongiorno, amore mio. Il signor sta svegliando. Occhi sbarrati perché l'invidia della quantità. Tanta invidia! Tanta? Allora tanta roba! No, no, è erronica! Passa il tempo con Valoda e mi fa schifo e sempre mi fa la schifo. Sua maestà, che c'è? Nulla. Ti sali tutto il marmiteriano sulla gola. Nullio però sembra aver avuto anche effetti benefici. Il balletto! E comunque in collegio c'è anche chi ha scoperto delle vere passioni. Gli annaffi questi poveri fiori. Mamma, cosa me ne frega? Dei fiori che... Gli annaffi bene, no? Non me ne frega niente! Guardi, guardi, poverina, questa pianta. No, più acqua, più acqua, poverina. No, signorina, non butti via il concino. Ma mi sono stancata! Avanti, signorina, non deve buttarlo via. Ma che partebre! Avanti! Fiorin fiorello Che cosa devo fare? Bene, concimare! Si vede che sei portata! Vede questa piantina che sta morendo? È morta! No, bisogna aiutarla! Oh, Elisa, pianta soledane! Oh, Elisa, pianta soledane! Mica, no, davvero, voglio piangere, voglio piangere, voglio solo piangere! Ma non è che poi me lo faranno a fiare? E se la signorina Angius piange dalla voglia di fare la contadina, la sezione A passa alla teoria in latino. Agricole, agricolarum, agricolaris, agricolam, agricolas, agricolaris. E tu, Elisa? Scusi, l'ho disturbata. Ah, mi scusi. Non volevo disturbarmi. Mi dispiace, vuole che le porti un cuscino. Vuole che le porti un cuscino. Stia attento! Allora, con latino non gliela posso fare, già con la mia avevo due, tre, ma pure qua al collegio, veramente non gliela posso fare. De gustibus non discutandum est, sui gusti non si discute. Però, meglio stare attenti in una settimana decisiva come questa, settimana che volge al termine, e dulcis in fundo… Ma no, pensano in c*****a questo oggi. Stava abelenato, stia. Comodi! Che anzi… …